E' bello vederti, anche per me. Sono così felice che siamo di nuovo tutti insieme allo stesso tavolo. Alla famiglia. Alla famiglia. Vado in città, ti serve qualcosa? Non fare tardi, Will! Mamma! Papà! Dovete aiutarmi, è successo qualcosa alla mia famiglia! Portaci alla barca. Will, posso chiamarti così? Come sai il mio nome? Me l'ha detto tua madre. Lasciatemi andare! Che sta succedendo? Ti devo delle spiegazioni. Sai che lavoro per il governo? Sei un analista finanziario, giusto? Non è questo che faccio all'ambasciata. Sei della CIA? Perché non me l'hai mai detto? Pronto! Hai meno di 24 ore. Chi diavolo sei? Portami la valigetta o la tua famiglia morirà. Will, io lavoro con tuo padre. Lui ha rubato qualcosa. Intendi la valigetta? Tu mi dai quello che cerco e io ti faccio riavere la tua famiglia. Non mi fido. Non hai i soldi, non conosci la lingua, la città. Non me ne vado senza la mia famiglia. Tu sei spaventato. E le persone spaventate che mi puntano un'arma spaventano me. Allora non sarà una conversazione rilassante. Ovunque andrai, ti daranno la caccia. Mi hai incastrato. Di che parli? Mi hai incastrato. Chi sei veramente? Dimmelo! La fredda luce del giorno. Che lavoro fai? Analista finanziario. Tale padre, tale figlio. Al cinema.